Il campionato italiano motocross MX1 e MX2 arriva al Giro di Boa. Terza prova per la disciplina più grintosa del panorama a due ruote. Da città di Castello va in scena il campionato italiano motocross MX1 e MX2. Live dalle 14.15 su Sport Television e in diretta streaming su www.sporttelevision.it Sport Television, la tv dove lo sport gioca in casa.